Prima di cominciare voglio ringraziare il nostro testimone per essere qui oggi. È così che funziona una democrazia. Si instaura un dialogo. Si agisce secondo il consenso dei governati, signore. Ho già detto in questa sede che interventi non autorizzati non saranno tollerati da questa Commissione e neanche le menzogne. Perché oggi è il giorno della vita perché solo parlando solo quando lavoriamo insieme possiamo possiamo noi possiamo creare una società che in questo modo. Grazie a tutti.